La moglie di un carabiniere nota che il marito la mattina quando si alza per andare in bagno si mette il giubbotto antiproiettile. Questa storia dura circa una settimana. Dopo una settimana allora la moglie decide di parlare al marito e gli chiede scusa caro ma perché ogni mattina quando ti alzi e vai in bagno ti metti il giubbotto antiproiettile? Allora risponde lui e cara perché il mio capo mi ha detto che prima o poi qualche stronzo mi sparerà. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.